Franklin almeno questa volta per favore ce la fai stare fermo Sto cazzo il ragaz nero delle cozze ha le sue regole E chi non le rispetta verita solo di morire Quindi tu vorresti ucciderli in pratica perché ha venduto delle cozze facendo lo scontrino Sono cose che non si fanno e euforbo deve assolutamente pagare E chi sarebbe questo bagnino euforbo Franklin ti prego stai fermo Tra l'altro secondo me non era manco euforbo è una donna Figa allora devo aver sbagliato Costa E va bene Franklin non possiamo mica lasciarla qua adesso Prova a chiamare un'ambulanza fai qualcosa E se un problema adesso ci penso io Così passerà per morte per affogamento Frank ma era ancora viva tirarla fuori di lì Sto cazzo poi se riviene mi denuncia vengo squalificato dalla gara di caciucco Ma santa miseria Bella che sono flame bentornati Siamo qui oggi su GTA 5 per scoprire ancora una volta tutti e quanti i misteri nascosti nel prologo Frank e non mettere i piedi in testa ai bagnanti per favore che poi se prendi delle botte è meritato Ma prima di cominciare ragazzone il video come sempre lasciarmi un bel pollicione in su Cerchiamo di dare almeno 7 mila mi piace per questo video E commentatemi qua sotto con scritto la spiaggia Con tantissime gira ragazzi Quante più potete Vado da fare esplodere completamente i commenti Stai lasciando Franklin che ha preso per l'ennesima volta la polizia Quindi lasciamolo andare per la sua strada Franklin sei un coglione Oh il tipo mi ha provocato io mi sono difeso Frank ma se non t'ha detto niente Allora deve essermi sembrato Adesso da bravo liberati dai poliziotti che non si fa assolutamente così Bene adesso lasciami fare che devo andare alla gara di caciucco Va bene lasciamo perdere Franklin completamente Infiliamoci immediatamente nel prologo La prima cosa ragazzi che volevo provare quest'oggi dopo che Trevor appunto ha sfondato la porta E che Michael ha minacciato le persone mandandole dentro lo sgabuzzino E possiamo detonare la cassaforte diventando Brad Oppure il numero sia da solo Michael Ma soprattutto possiamo mandare dentro le persone lo sgabuzzino utilizzando Brad Cioè che lui ha minacciarli e non Michael come appunto dovremmo fare Diventiamo un attimo quel povero disgraziato di Brad E vediamo appunto se sono cose che possiamo fare Tra l'altro Brad ha anche un'animazione che chiude la porta Ma la fa fare noi o la fa fare Michael a sto punto Minacciamo le persone e vediamo se vanno Sì Ok perfetto rispondono al comando anche di Brad Ok loro vanno dentro lo sgabuzzino Perfetto adesso però mi tira via l'arma ragazzi Mi sta forzando un sacco le cose Ok attenzione parte l'animazione con il nostro personaggio Brad chiude la porta completamente Ok e adesso mi dice di attivare la detonazione Quindi io se premo il tasto del telefono Ok mi va su contatti perfetto Nessun contatto attenzione non ha il numero dell'esplosivo Trevor ce la puoi avere visto che Brad non è un personaggio principale Ma Trevor sì Signor Trevor non è che lei per caso ha il numero dell'esplosivo No ragazzi non ce l'ha neanche Trevor Quindi ce l'ha unicamente Michael Possiamo detonare questa cassaforte unicamente con il signor Michael Detonazione chiamiamola Dopodiché entriamo nel cavo o ciò che ne rimane dopo questa esplosione Con Brad E appunto il poliziotto sequestrerà Brad o sequestrerà sempre Michael Brad te quest'oggi sei la cavia numero uno Mi dispiace comunque C'è un sacco di fumo Franklin sarebbe contentissimo Sarebbe al settimo cielo Entriamo qua dentro e vediamo se l'animazione ci da Brad o ci da Michael Perché noi prendiamo tutti quanti i soldi Attenzione no Dagli abiti mi sembra Michael Ok è Michael Però all'uscita io dovrei tornare un'altra volta Brad Esatto sono Brad Incamminiamoci verso l'uscita Ok Trevor ci ha visto Perfetto E chi sequestra Sequestra Michael Poi com'è vestito Un attimo ragazzi Attenzione abbiamo due Michael a questo punto C'è un Michael con il suo vestito classico E non c'è Brad Cioè in pratica se noi veniamo braccati come Brad Michael cambia abito Però ragazzi sono nel filmato Perché come vedete questo dito sta abbracciando l'aria Cioè sembra sembra scemo va bene Se proviamo a diventare questo dizio Lui continua a fare le sue robe Un attimo che si è fermato Attenzione Si rigira verso Trevor Io posso sparare Perché questo sparerebbe solo Michael Ma spara Trevor Non posso spostarmi neanche forzando la telecamera Proviamo a mettergli Trevor davanti E vediamo se possiamo sparargli Trevor stia fermo qua Dovremmo esserci Perfetto No ragazzi I proiettili di quest'uomo sono più finti Del Rolex di Mobutu in spiaggia Quindi adesso noi diventiamo Trevor E vediamo un attimo se possiamo sparare a quest'uomo Tanto Michael non c'è Quindi possiamo tirargli un colpo col pompa Non lo so Mettiamolo di spalle Così è assolutamente pronto per il colpo Vediamo se possiamo uccidere quest'uomo Togliamo via lo spawner Ok Può morire Perfetto O no? Mi è tornato in piedi? Cosa è successo ragazzi? Perché è tornato in piedi tipo? Chi l'ha ucciso? Ah gli ha sparato Michael Ragazzi è successo una cosa stranissima Adesso io non posso diventare Michael Perché dovrei prima essere appunto lo stesso Michael E cambiarmi con Trevor Per proseguire in questa missione Vediamo un attimo se io torno Michael Ragazzi è un trip incredibile Non so se ci avete capito qualcosa Io non ci ho capito assolutamente nulla A chi ha sparato? Che tipo era già per terra Guarda che ha prologo Bagato di brutto Il tipo praticamente ha fatto una fine Veramente bruttissima Anche se stava minacciando l'aria Io non so quanto convenga Se questa nell'aria Per ottenere quello che si vuole ottenere Adesso Brad dovrebbe tirare giù la porta Io non posso diventare Brad Però durante questa animazione Perché io devo avere una posizione Appunto specifica con Trevor Quindi non me lo fa fare Adesso viene giù la porta E proviamo a fare gli esperimenti Anche fuori da questo cavolo Comunque penso che ormai gli esperimenti Che dobbiamo fare qua dentro Li abbiamo fatti tutti Mi sembra La stanza segreta non ve la faccio vedere Perché l'ho già fatta Mi sembra il video di Rester Stavo pensando una roba ragazzi Ma se noi in questa circostanza Diventassimo un poliziotto Come potrebbe essere la roba? C'è tanto devo cambiarmi con Michael Cosa sta facendo? Ha sparato a Brad Perché? Io ho semplicemente cambiato personaggio Stavo dicendo ragazzi Ma se dovessimo diventare un poliziotto Come potrebbe essere appunto? Come potrebbe proseguire questa storia? Però ragazzi prima vorrei provare una roba Ma se fosse Brad il primo ad aggiungere la macchina Ovvero non Michael E neanche Trevor Il filmato partirebbe lo stesso Perché qua come vedete mi fa cambiare O uno o l'altro Ma Brad assolutamente no Quindi noi adesso facciamo così E boom Dovremmo già essere diventati Brad Perfetto E adesso dirigiamoci verso la macchina Buongiorno salve Come sta? Anche lei? Tutto bene a casa? Perché non mi fa andare? Ragazzi c'è una barriera invisibile Non posso andare avanti in questa circostanza Com'è ragazzi? Stranissimo Noi facciamo così E boom Perfetto Perché appunto dovrebbe essere uno tra Michael e Trevor A portare avanti la baracca Ma se no andiamo avanti lo stesso La missione prosegue Sì attet... Minchia dove è volato il tipo Sì ragazzi la missione prosegue Mi sembro spari a caldo tra l'altro Raga va avanti da... Raga una Ma avanti da solo Io non sto tocando niente Raga va avanti lui Guardate è assolutamente l'animazione di Brad Io non sto facendo nulla In pratica rileva Che Brad sta andando avanti Io raga non sto facendo niente Come vedete le mie mani sono qua Cioè fa tutto da solo Però raga in teoria Non dovrebbe arrivare anche uno tra Trevor e Michael Perché se noi non siamo né uno nell'altro Dovrebbero andare automaticamente Perché noi appunto possiamo essere o uno o l'altro Diciamo che un percorso in teoria Ce l'hanno già preimpostato Trevor è qua Michael non l'ho ancora visto Quindi signor Trevor Venga qua da bravo Portiamolo Perché noi in teoria ragazzi Saremmo dovuti essere Trevor E Michael ora dove è finito Michael doveva raggiungere semplicemente la macchina Perché non era lui l'ultimo personaggio Che aveva abbandonato Nel radar mi segna che c'è una mezza curva E non mi segna Trevor Cosa è successo raga Perché non c'è Michael Attenzione a... M è morto Allora chi era quel segnalino Che avevo in mezzo alla strada lì Cioè raga non avevo il segnalino di Trevor Ma avevo il segnalino di Michael morto Di... Altra domanda raga Ma se la macchina fosse tipo ad alta quota Tipo la vediamo a due metri d'altezza E li portiamo forzatamente sopra la macchina Questi entrano dentro la macchina in un filmato A venti metri d'altezza Oppure no C'è un Brad falso raga Cosa è sta roba Si è sdobbiato dalla missione precedente Però perché è rimasto Altra domanda raga Ma il bifolgo possiamo ucciderlo Oppure può anche morire lui per cause accidentali Non so Cade la macchina da duemila metri Si sfraccella Piccolo esempio Se io prendo questa macchina E la faccio volare da qua Questo si sfonda la testa Togliamo il frozen in place Che gli viene impostato E no Raga non gli fa niente Va bene blocchiamolo qua in cima Dopodiché raga gli avvicinano tutti quanti i personaggi Sopra al bagagliaio E vediamo se si attiva il filmato Dove loro entrano in macchina Se dovessero entrare e dare in cima Raga sarebbe una delle cose più epiche della storia Si ribalterebbero tutti Sarebbe veramente bellissimo Devo ancora provare a diventare un poliziotto tra l'altro Prima facciamo Michael Che è il nostro personaggio Mettiamolo qua in cima E vediamo un attimo cosa fa Guarda il filmato ancora non parte Anche se Michael è vicinissimo alla macchina Stia fermo Da bravo Stia qua Ole Ho detto stia fermo Cosa si butta giù da 2000 metri Ma è scemo Si fotta Brad raga Basta con quell'esperimento Cerchiamo di diventare un poliziotto Prendiamo lo spawner Diventiamo un poliziotto E vediamo come si vede Dalla loro parte Dunque Ma l'ha già ucciso questo Questo no Questo è più uscito Ma l'ha già ucciso anche questo Raga ho basato il tempo In modo che Trevor Non li uccidessi in tempo Ma vaffan... Lasciamo perdere questo esperimento Torniamo in macchina Dove sta correndo Michael Vieni dentro Dov'è Brad? C'è montato i macchini No ancora là in cima mi sembra Stavo pensando una roba raga Ma visto che qua siamo nel 2004 E Michael si trasferisce Non so nel 2013 Qualcosa di simile Come potrebbe essere la casa di Michael? Soprattutto ragazzi Le foto come potrebbero essere Perché in quest'anno Tracy dovrebbe avere all'incirca 12 anni O 13 Non mi ricordo Mentre Jimmy dovrebbe averne 10 Ma prima di tutto ragazzi Vediamo una roba Prima che Michael muoia La sua tomba è già stata scavata Michael potrebbe essere Un brutissimo spoiler Io te lo dico già in partenza Comunque parcheggiamo qua E vediamo se la tomba di Michael È già stata scavata Cosa molto probabile Perché noi non possiamo venire qua Nella missione principale C'è un tappeto erboso qua Perché mi cade di sotto? La tomba di Michael Questa zona qua non ha pavimento E quindi raga Noi ce lo mettiamo Dunque adesso io se vado qua Posso andarci Qua ragazzi c'è una tomba C'è una tomba però Completamente trasparente Non può essere assolutamente Estratta o controllata In alcun modo Perché non è un oggetto Con collisione Ma dentro questa tomba Cosa abbiamo? C'è già il cadavere di Brad Attiviamo lo spawner E anche per te Brad potrebbe essere uno spoiler Rolamente orribile No Non c'è assolutamente nulla La tomba è completamente vuota La tomba come vedete È quella di Michael Perché appunto Ho già scritto il nome Sulla lapide Ma se tipo facessimo Un Brad versus cadavere di Brad Quindi da bravo Brad Uno schiaffo al futuro Così vi piaci E poi direi che possiamo Proseguire con la nostra missione Ok siamo portati all'Ossento Sentiamo un attimo Nello strip club Se possono interagire Non lo so Possono avere al bancone O se possono interagire Col mignottane Che possiamo vedere sul palco Fatevi dare un'occhiata Qua in fondo Mi sembra No tra l'altro Tipo non c'è chi Ne è impossibile Come vedete Io sto facendo un massacro assurdo Di solito sia con Trevor Che con Michael Che con Franklin Mi basta sparare da due macchine Facendolo esplodere E questi completamente Ce li ho alle calcagna Dovremmo essere ormai vicini Alla casa di Michael Buongiorno Salve come sta Porca miseria No non volare via Non volare via Mi scusi signora Non l'ho fatta apposta Ci siamo Questa è la casa di Michael Raga potremmo trovare Sia Amanda che Tracy Che Jimmy qua dentro Chi lo sa Intanto vedo che Il garage risponde Al personaggio Quindi vuol dire Che qua dentro Ci possiamo entrare Perché noi ragazzi Adesso dovremmo essere Michael Però siamo col corpo di Brad Qua dietro non c'è nessuna Neanche in piscina Normalmente Tracy Dovrebbe esserci in piscina Però oggi non c'è Dovremmo essere ancora nel 2004 Però questa rivista Non ha una data Peccato Il ritratto di Amanda c'è Quindi in te Questa casa qua Dovrebbe già essere di Michael Vediamo se c'è qualche foto Compromettente in questa casa Qua comunque abbiamo La stanza di Tracy Senza Tracy dentro Qua ci sono due foto Attenzione Qua abbiamo Amanda E Tracy Ok E qua c'è Jimmy Adesso non riesco a definirgli Bene un'età Però mi sembrano leggermente Cosa di simile Qua abbiamo la tv Abbiamo il bong Quindi dubito che un ragazzino Di 11 anni Si tiri il bong Poi a meno che Non abbia proprio dei genitori Come mia madre Quindi è un chiarissimo segno Che loro qua Sono già appunto nel 2013 Di conseguenza Non solo cambiando stato Si cambia Isola, città e tutto Ma cambia anche l'anno Quindi noi andiamo avanti Nel tempo Grande Joe Qua abbiamo altre foto Non so se siano i genitori Di Amanda O quelle di Michael Penso quelle di Amanda Qua abbiamo Amanda Appunto con Michael Comunque ok Andiamo allora Allora di Trevor E vediamo se quella c'è già È molto probabile Ok Sandy Shore Ci siamo E questa è la roulotte di Trevor Ok Non possiamo sniffare la benzina Almeno una cosa positiva c'è Ok Entriamo in casa Perlustiamola un attimo Vediamo È sempre uguale Quindi anche qua ragazzi Non cambia assolutamente nulla Nella casa di Franklin Quella nuova Non quella vecchia In questo punto Dovebbe ancora essere In Amanda Non so chi Quando su questo tavolo Non c'era ancora il bong Quindi qua andiamo ancora bene Non c'è nessuna cosa Che possa ricordarci Franklin Perché appunto Franklin In questo punto Deve ancora conquistare questa casa Questo invece sarebbe L'attuale casa di Franklin Possiamo incontrarlo Prima o no Perché qua dentro Non vedo assolutamente nulla Zia Denise La possiamo vedere qua in mezzo Normalmente la troviamo qua a sedere Ma non c'è neanche lei La casa è completamente pulita Non c'è nessuno Andiamo a vedere in camera di Franklin Che Franklin Essendo in teoria un 88 Essendo lui nel 2004 Dovrebbe avere all'incirca Non lo so 16 anni Una roba simile Qua c'è una foto Ma mi sembra che sia la stessa Quella che abbiamo di solito Qua abbiamo quella gran Non so cosa Di zia Denise Belle le letture della zia Proprio complimenti Ok Qua abbiamo un paio di foto Quindi dovrebbero essere i genitori di Franklin Nella sinistra sarà Franklin Non lo so Comunque in questa casa È tutto assolutamente normale Tutto già preparato Per la storia di GTA Adesso da bravi Uscite di casa Che non è casa vostra Venite fuori Trevor vieni fuori da bravo Cosa fai Scarti nella porta E adesso ragazzi Sto pensando Cerchiamo di forzarci la polizia Visto comunque come vedete Nel radar in bassa sinistra Non mi segna la mappa Possono trovarmi poliziotti Con 5 stelle Mi sembra che non sia arrivato ancora nessuno Come sapete ragazzi Con le 5 stelle Arriva subito un elicottero Che vi smitraia come un pazzo Però in questo caso Ah ok è quello lì Perfetto Ecco da bravi Atterrate e cominciate a smitragliarmi Vediamo un attimo se loro mi mirano Mi possono colpire Ok quindi la polizia mi vede Possiamo avere le stelle Ma unicamente forzandole Oh queste sono le persone Che mi piacciono I tizi delle gang Non gliene frega un cavolo Se sei Brad Trevor Michael Loro ti sparano a prescindere Ma se io dovesse diventare Franklin Che non c'entra assolutamente niente Con questa missione Cosa potrebbe mai succedere Cioè io posso fallire la missione Oppure no Perché Franklin sarebbe calcolato Come personaggio Come Trevor e Michael Proviamo ragazzi questa roba Divendiamo Franklin E vediamo Ragazzi missione fallita Attenzione Hai abbandonato l'auto Quindi Franklin può far parte dei colpi Adesso io ho Franklin O rimango con appunto Brad Ok nulla è cambiato Noi siamo Michael E abbiamo dietro Brad e Trevor Tutto quello che dobbiamo vedere nel prologo Ormai l'abbiamo visto Possiamo tornare con il buon Franklin E ho paura Franklin cosa stai facendo Di stravaccato Di fronte alle persone Cerco di rilassarmi Perché senza erba Non è la stessa cosa Dai Frank pianta Lo so chi ti vede Che sembra uno scemo Allora cerchiamo di rendere più decente Questa scena È più quello che sembra Ma è quello che è Dai Frank per l'amor di Dio Ma smettila Oh sono senza erba Cosa lo devo pur farlo Frank io devo chiudere il video Per favore Cerchiamo di andare incontro con questo Vedere se quella si ferma Un attimo Fate vedere una cosa Ok Per fortuna che almeno Lei al limite della decenza Non vuole farsi vedere da altre persone Figo io queste cose di alta borghesia Non le ho ancora capite Va bene Frank per favore Fammi finire sto video Perché sto diventando scemo Oh non mi parlare di casini Che porca miseria Ho anche perso la gara di cacciucco Io spero che questo video Vi sia piaciuto Seguite i posti Lasciate un bel pollicione Un commentino Vi ricordo di iscrivervi al canale Se non siete ancora iscritti Trovate tutti i social Sotto in descrizione Come di come al solito E che dire Qui da Flame È tutto Bella riga